ogni volta che massimo degli incontri ufficiali riceve i suoi ospiti in biblioteca dove per la prima volta l'ho visto anche io dopo che mi ha rapito adoro questa stanza è un presagio di qualcosa di nuovo sconosciuto ed eccitante premo un pulsante sul telecomando e la porta d'ingresso si chiude nessuno ha visto la mia macchina la mia presenza massimo non sa che sono tornati in anticipo dal centro benessere mi intrufolo silenziosamente la casa è buia alcuni rumori provengono dal giardino mi dirigo nel corridoio il mio cuore batte forte per l'eccitazione a massimo piacerà questa sorpresa ho un piano una notte di folle passione con lui in anticipo gli mando un messaggio così posso sapere dove si trova in questo momento si esce dalla biblioteca sarò lì ad aspettarlo nuda vorrei lanciarmi su di lui avvolgendo le mie cosce attorno ai suoi fianchi e poi dopo mi scoperà sul morbido tappeto vicino al camino afferro la maniglia apro leggermente la porta il camino è acceso si sente un leggero sospiro mi espongo un po di più e un'ondata di rabbia e disperazione mi travolge non posso crederci vedo mio marito che si sta scopando la sua ex amante cosa Anna la sta scopando come ha fatto con me ieri in quella scrivania non respiro il mio cuore si ferma Anna mi guarda sorride eronicamente si spinge ancora più forte a massimo Anna mi guarda sorride ericare non mi guarda sorride 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 non mi E' una giovane donna senza passato. Ha un solo grande sogno, ritrovare la famiglia perduta. L'incrocerà il cammino di Lord Henry. Tra sontuosi ricevimenti, passeggiate per le campagne inglesi e battiti del cuore, torna Antonella Barbieri, con una storia che narra di emozioni, segreti e coraggio. Emily è disponibile su Amazon in formato cartaceo ed ebook. Non fatevelo scappare. Nei commenti trovate due link di acquisto. Grazie. 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 Grazie.